Musica Ultima edizione del nostro telegiornale, buonasera, ben ritrovati con l'informazione di Telemolise. Apriamo parlando della Cattolica di Campobasso, il direttore sanitario della Fondazione Giovanni Paolo II, Mario Zappia, che ricopre l'incarico da circa tre anni, non possiede i titoli imposti dalla legge. Tale circostanza è stata accertata dal Ministero della Salute su richiesta degli organi inquirenti della Procura di Campobasso. La Regione invece, dopo la denuncia fatta da Telemolise, aveva garantito il contrario. Intanto Paolo Frattura ha firmato il decreto di accreditamento definitivo per 40 posti letto alla Fondazione Pavone Neuromed di Salcito, ma secondo indiscrezioni Aldo Patriciello ne chiede 60 per rinnovare l'accordo elettorale. Ma sentiamo Giovanni Minicozzi. Il direttore sanitario della Fondazione Giovanni Paolo II, Mario Zappia, non ha i titoli per ricoprire tale incarico. Lo denunciammo da questa emittente quattro mesi fa, ma la Direzione regionale della Salute, d'intesa con il commissario ad acta Paolo Frattura, risposero a muso duro chiedendoci addirittura una rettifica e confermando che il dottor Zappia era in possesso dei requisiti richiesti poiché lo aveva certificato il presidente della Fondazione, Maurizio Guizzardi, sostenendo che il master e il dottorato di ricerca fossero equivalenti alla specializzazione in igiene e sanità pubblica. Insomma, l'oste aveva certificato la bontà del suo vino. In quella occasione ribadimmo che Zappia non aveva i titoli e che la Regione non aveva dato seguito alla diffida inviata alla Fondazione da Marinella D'Innocenzo, allora Direttore Generale della Salute, poi trasferita fuori regione. In questi mesi nulla è successo e il dottor Mario Zappia è rimasto al suo posto, senza che la Regione muovesse un dito. Nel frattempo, però, l'inchiesta della Procura di Campobasso è andata avanti e gli inquirenti hanno fatto ciò che il commissario Frattura avrebbe dovuto fare, ovvero hanno inoltrato richiesta scritta ai Ministeri della Salute e al MIUR per avere un parere sull'asserita equivalenza dei titoli posseduti da Zappia. Le risposte ricevute, già inviate anche alla Regione, non lasciano dubbi. Il Direttore Sanitario della Fondazione, Giovanni Paolo II, non ha i requisiti per tale incarico. Infatti, nel parere del Ministero della Sanità è scritto testualmente Si fa presente che il Master ai fini degli incarichi dirigenziali del Servizio Sanitario Nazionale non può essere considerato equivalente alla specializzazione. Netto e chiaro anche il parere del Ministero dell'Istruzione, che ha scritto testualmente Per quanto attiene all'eventuale equivalenza del Master di secondo livello e del Dottorato di ricerca al Diploma di specializzazione, si conferma che tali titoli non hanno alcuna possibile equivalenza tra loro. Peraltro è da sottolineare, oltre al dilettantismo forse colposo manifestato dalla Regione in questa vicenda, anche la malafede del Presidente Guissardi, che aveva di fatto certificato il falso. Mario Zappia, invece, risulta essere recidivo per aver tentato di ricoprire incarichi senza avere i titoli anche con la Regione Sicilia. A questo punto, Paolo Frattura deve spiegare ai molisani come sia stato possibile mantenere accreditata per circa tre anni la fondazione, priva di un direttore sanitario che avesse i requisiti prescritti. Il Commissario Frattura deve anche chiarire come mai prima voleva mettere le mani sulla fondazione cambiando la governance e poi è entrato in piena sintonia con il direttore generale Zappia che ha ricoperto abusivamente anche il ruolo di direttore sanitario firmando accordi mai decollati su una possibile integrazione. Cardarelli-Fondazione acchigiova tanta confusione su una struttura di eccellenza come la ex-cattolica. Intanto l'inchiesta penale va avanti e, secondo i beni informati, Mario Zappia sarebbe indagato per truffa. Nel frattempo e precisamente il 20 settembre scorso, Paolo Frattura ha accreditato 40 posti letto alla fondazione Pavone Neuromed di Salcito, ma i beni informati hanno fatto sapere che Aldo Patriciello ne rivendica 60 per rinnovare l'accordo elettorale con Frattura alle prossime regionali. Dunque il mercato delle vacche continua, mentre in Molise muore disperato. MDP respinge al mittente l'offerta di dialogo pervenuta al tavolo del centro-sinistra. Al vetriolo la risposta è arrivata a stretto giro da Danilo Leva. Noi non ci siederemo mai a nessun tavolo dove ci sono Patriciello e Alfano. Quello che sta organizzando il PD è un tavolo del centro-destra. Pasquale Di Bello. Con una risposta al vetriolo del deputato bersaniano di articolo 1, Movimento Democratico e Progressista, Danilo Leva, viene archiviata sul nascere la proposta di dialogo lanciata dal tavolo del centro-sinistra all'indirizzo proprio di MDP e dei protagonisti del progetto denominato Ulivo 2.0, quello che fa capo allo stesso Leva e al senatore del PD Roberto Ruta. Uno degli esiti della recente riunione di coalizione promossa dalla coppia Frattura-Fanelli in vista delle regionali 2018 è stata proprio la proposta di aprire una porta ai dissenzienti al fine di ricreare l'unità di una coalizione che ormai sta perdendo pezzi ogni giorno e ad ogni ora del giorno. Sprezzante, in puro stile d'Alema, la replica di Danilo Leva all'offerta degli ex compagni di viaggio. Noi non ci siederemo mai a nessun tavolo dove ci sono Patriciello e Alfano, ha detto, togliendosi non il classico sassolino dalle scarpe, ma un paio di morge grosse quanto il Monte Grappa. Poi, mettendoci il carico da 11, ha aggiunto, il PD sta organizzando il tavolo del centrodestra in Molise. Altro che storie, è così. Visti anche i trascorsi di Frattura, il centrodestra avrà due candidati. Difficile dare torto a Leva sui trascorsi di Frattura in Forza Italia, cosa, peraltro, nota anche cinque anni fa quando Leva, invece, pare non se ne sia accorto. La loro è una richiesta di unità a chiacchiere, ha aggiunto l'uomo di punta di MDP in Molise. Noi siamo nati per riproporre l'ulivo, che centrano Forza Italia e Alfano con il centrosinistra, ha quindi concluso sbarrando la porta ad ogni ipotesi di riavvicinamento. Naufraga così la proposta elaborata dal tavolo di Frattura e Fanelli e contenuta in un lunghissimo comunicato stampa più simile ad un attacco d'asma che ha un documento politico. La nota diramata è una giaculatoria inconsistente e vuota, una litania traballante di parole che sembrano cascare come sassolini dalla bocca di Frattura e Fanelli e degli altri componenti del tavolo di centrosinistra. Metodo, merito, visione, inclusione, programma, lavoro, umiltà, impegno, responsabilità, solidarietà, cultura, ambiente, poveri e deboli. Questo il campionario di slogan di una coalizione ormai disperata che cerca di rimettere nel tubetto il dentifricio che in cinque anni è stato spremuto e disperso. Alle profferte di un tavolo qui siedono dieci sigle che vanno dal PD alle estemporanee formazioni dei centristi per l'Europa e alla sigla Ambiente, Lavoro, Giovani, Impegno per il Molise, leva, ruta e compagnia cantando hanno risposto picche. Insomma, finché resta Frattura, l'unità a sinistra è una chimera. A crederci non ci resta più nessuno se si escludono lo stesso Frattura e il segretario regionale del PD, Micaela Fanelli, entrambi preda di una felicità asfittica e di un ottimismo minerale tipici di chi ha lasciato la terra e cammina già, senza saperlo, sulla Luna. Cambiamo argomento. Dopo l'incendio di un SUV nei garage di Via Sicilia a Campomarino, adesso si contano i danni. Ne sono ancora tante le famiglie che non possono rientrare in casa, numerosi disagi e da stanotte c'è anche chi non ha più un posto dove andare a dormire. Manuela Iori. I garage dei palazzi di Via Sicilia a Campomarino non erano a norma dal 2002. C'era un'ordinanza che vietava di lasciare le macchine nei locali sotto le abitazioni, usati per lo più come cantine e depositi. Ma non tutti la rispettavano e domenica notte è successo l'impensabile. Una tuareg lasciata davanti al garage da un residente ha preso fuoco in i sotterranei e si è scatenato l'inferno. I primi ad accorgersi delle fiamme, quando ormai erano già alte, sono stati gli inquilini del piano terra che di corsa hanno bussato alle porte per far uscire tutti in strada. I pavimenti erano bollenti, scricchiolavano e dai lavandini dei bagni usciva fumo nero. Ho sentito un altro botto, tipo una forte esplosione, perché scoppiava tutto sotto casa. Poi ho sentito urlare, ho sentito il signore Franchi che urlava, bussava dietro le porte, scappate, scappateci un incendio. Poi io mi sono affacciato e ho visto una grande colonna, un fumo nero, che usciva dai garage. Poi la prima cosa che ho fatto destinto, ho chiamato tutti i condotti, sono scappati tutti quanti, ma poi ho staccato tutti i condotti dalla corrente per evitare ulteriori incendi. Gli abiti al pian terreno, siete scappati fuori di Luviava, con i pigiami, la pioggia? Noi praticamente siamo scappati così all'improvviso, poi ci siamo messi nella macchia perché piova tantissimo e abbiamo allontanato le macchie perché il fumo era talmente tanto che non riuscivo neanche a respirare. Adesso casa è inagibile, perché giù nei garage, come avete visto, le fogne non esistono più. La condotta dell'acqua è stata chiusa per un'ulteriore perdita. L'elettricità sta a rischio perché adesso per il momento stanno dei cavi che sono stati isolati, ma non zona no, perché a volte fa via la corrente, perché fanno corto. Finché non metteranno dei pondeggi, delle strutture che mettono in sicurezza il palazzo, noi non possiamo accidere perché abbiamo un zolaio che è veramente indebolito. L'interno dei garage è spettrale, tutto annerito e consumato dal calore e dalle fiamme. Persino un vigile del fuoco si è sentito male per la temperatura altissima che i locali hanno raggiunto. Il calore ha sciolto le tubature dell'acqua, della luce e del gas. Una trave portante si è spezzata e alcune pareti sono state lesionate. Le ultime due palazzine di Via Sicilia, proprio sotto i garage, sono state evacuate e 11 famiglie per ora non possono rientrare. Finora hanno dormito all'hotel Acquario a Lido, dove il comune ha potuto pagare solo la prima notte. La seconda notte ha spese dei proprietari dell'albergo, ma da questa notte molti non sanno dove andare. Ci sono anziani, famiglie con bimbi piccoli e disabili. Qualcuno ha chiesto aiuto alla parrocchia. Questa notte dove dormirete? Per strada, dentro alla macchina o dentro una tenda. Lei quanti figli ha? Quattro, dico io uno cinque anni. E non sa dove andare? No, niente. Mangiare, dormire, niente. Ha chiesto aiuto a qualcuno? Sì, ma tanto non mi aiuta nessuno, neanche il comune. Oggi un perito chiamato dai condomini ha iniziato a fare alcuni rilievi, ma nessuno al momento sa quando le famiglie potranno rientrare in casa. E la paura ora è quella degli sciacalli, di malintenzionati che possono approfittare delle case vuote per andare a rubare. Qualcuno, anche per questo motivo, ha deciso di dormire in auto davanti al palazzo. Sette persone sono state denunciate per capolarato nell'Isernino, mentre in basso Molise resta alta la tensione tra gli agricoltori dopo i danni e le intimidazioni che hanno colpito i vigneti. Giovanni Di Toto. Il fenomeno del caporalato messo nel mirino dai carabinieri di Isernia che nel corso delle indagini predisposte dal Comando Interregionale di Napoli hanno denunciato sette imprenditori della provincia. Nel corso dei controlli a tappeto sono state impiegate tutte le stazioni dell'Isernino, i nuclei operativi e radiomobile provinciali e gli ispettori del lavoro di Isernia. Al termine dell'attività sono stati riscontrati turni di lavoro massacranti e personale ridotto quasi in schiavitù in alcune aziende della zona. Le sette persone denunciate sono titolari di imprese del settore edile, agricolo e commerciale. I reati che vengono contestati vanno dalla intermediazione illegale allo sfruttamento del lavoro fino alla violazione delle norme sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. I carabinieri hanno accertato che in un'azienda commerciale il titolare pagava agli operai 20 euro per un'intera giornata. Dunque il fenomeno del caporalato si estende a macchia d'olio e non soltanto nella zona più a vocazione agricola, quella del Basso Molise. Qui intanto sono ancora in corso le indagini per risalire agli autori dell'atterramento delle vigne su una superficie superiore a 30 ettari. E' ormai opinione comune tra gli imprenditori che hanno subito il danno, circa mezzo milione di euro in totale, che la mano che ha agito nelle campagne di Nuova Cliternia sia stata mossa su un'indicazione precisa arrivata oltre confine. I vigneti colpiti sono vicinissimi alla Puglia, dove anche nelle campagne vale la regola della sorveglianza e del racket. La risposta degli agricoltori locali non si è fatta attendere. Abbiamo un fucile in ogni masseria, hanno fatto sapere in giro, ma la gente che spara sul serio è annidata proprio dietro le colline dei confini pugliesi e a nessuno pare il caso di aprire una faida armata. L'invito che arriva dagli imprenditori e alle istituzioni a chiudere subito le indagini e a intensificare i controlli, prima che la malavita del Gargano alzi il tiro. Lettera di saluto del questore di Campobasso Raffaele Pagano, che dal primo ottobre andrà in pensione. Ho voluto ringraziare i colleghi amici e tutti coloro che gli sono stati vicini. Credo profondamente in questo lavoro in cui ho investito tutte le mie migliori energie, e la mia buona fede ha scritto con un solo obiettivo servire la comunità presso cui lavoravo. Il bilancio è tra soddisfazioni e dispiaceri, comunque sostanzioso e ricco, segno che non è stato inutile l'impegno. E si riaccendono le polemiche sulla realizzazione del tratto mancante della superstrada esterni a Casteldisangro. L'annuncio da parte del vice ministro Nincini del possibile via ai lavori nel 2019 è stato duramente criticato dal Partito Comunista dei Lavoratori e dal comitato che si batte contro la realizzazione dell'8-0. Sergio Di Vincenzo. Anziché parlare della stabilizzazione dei precari della provincia, rimasti senza lavoro a fronte di una manutenzione stradale di piani neve che fanno acqua, alla festa del PSI a Pettoranello, il vice ministro Nincini ha preferito vantarsi dell'avvio del progetto all'8-0 nel 2019. A dirlo è il coordinatore del Partito Comunista dei Lavoratori, Tiziano Di Clemente, da sempre schierato dalla parte del comitato che si batte contro la realizzazione del tratto della superstrada e Sernia Castelli di Sangro che dovrebbe collegare il bivio di Miranda a quello di Pesche. Di Clemente, oltre a ritenere l'opera inutile e dannosa, precisa che nella delibera Cipe citata da Nincini non c'è traccia del finanziamento e non risulta nemmeno sul sito dell'ANAS, né la delibera Fantasma è stata mai esibita da qualcuno. Per ora l'unico dato pubblicato riguarda il finanziamento regionale di 4 milioni di euro per i progettisti, ha detto ancora il coordinatore del PCL, mentre nei mesi scorsi l'assessore regionale Nagni, oltre a dichiarare che non c'erano finanziamenti Cipe in vista, a un'interrogazione presentata da Petraroia, ha ribadito l'assoluta contrarietà della regione al progetto. In pratica, concluso di Clemente, Nincini si vanta di sostenere uno scempio ambientale ed erariale, senza contare che su questa vicenda appende anche un'inchiesta. Per il Comitato non l'8-0, i soldi previsti per questa opera, all'incirca 170 milioni, possono in realtà essere spesi per un piano straordinario per l'occupazione, magari per mettere in sicurezza il territorio intervenendo sulle frane, facendo manutenzione stradale, bonifiche ambientali e altri interventi utili alla collettività. Mancava il numero legale ed è slittato a giovedì. Il Consiglio Comunale di Campobasso saranno in discussione e votazione. Il bilancio consolidato per il 2016, la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie del Comune, la ratifica della variazione al bilancio di previsione 2017-2019. Degrado alle spalle del mercato coperto di Campobasso. Secondo alcune segnalazioni, ogni mattina vengono ritrovate siringhe e bottiglie di vetro. Un appello, dunque, dei cittadini alle istituzioni per intensificare i controlli nella zona, soprattutto di notte. Il trasferimento temporaneo del dente di un bambino del Paleolitico al Castello Pandone ha scatenato la guerra dei Campanili tra Isernia e Benafro ed è l'assessore alla cultura di Palazzo San Francesco che chiede alla sovrintendenza di ripensarci. Dentino del Paleolitico, dopo l'appello di Emilio Izzo, arriva anche quello dell'assessore comunale alla cultura di Isernia. Eppure Eugenio Chemianischi chiede che il reperto resti a Isernia. Per l'esponente dell'esecutivo, da Pollonio sarebbe preferibile, piuttosto che spostare il prezioso reperto, fare in modo che chi è interessato venga ad osservarlo a Isernia nell'ottica di favorire flusso turistico verso il capoluogo Pentro. L'osservazione scaturisce dal fatto che il prossimo 28 settembre Benafro ospiterà la conferenza dei presidenti dei consigli regionali italiani. In tale occasione il dentino del Museo Paleolitico verrà esposto nel Castello Venafrano dei Pandone per essere mostrato agli ospiti. Chemianischi ha così commentato, è tutto legittimo, specie se l'iniziativa parte dal presidente del Consiglio regionale Vincenzo Cotugno e se c'è l'avallo del direttore del polo museale del Molise, Leandro Ventura. Però mi chiedo, dice Chemianischi, quali siano le ragioni che inducono a spostare il dentino a Venafro e non piuttosto a fare in modo di portare in visita Isernia nel Museo del Paleolitico i presidenti dei consigli regionali d'Italia e consentire loro d'ammirare sia il dentino sia l'intera struttura museale. Perché ha aggiunto l'assessore, in qualità di responsabile del turismo è evidente che avrei preferito la seconda soluzione e invece mi sembra che siamo di fronte all'ennesima occasione persa per Isernia. Si parla spesso di attivare circuiti turistico-culturali che possano indurre i visitatori a venire nella nostra città e poi c'è sempre qualcosa che impedisce o rallenta tale obiettivo. Ritengo, chiude Chemianischi, che Cotugno e Ventura siano ancora in tempo per riconsiderare la questione, pertanto l'invito a riflettere per evitare l'ennesima mortificazione delle aspirazioni di Isernia e degli Isernini. Grande successo per la fiction in arte Nino andata in onda ieri su Raiuno, magistrale ed apprezzata all'interpretazione di Elio Germano nella parte del grande Nino Manfredi. L'attore romano, ma di origini molisane, di Duronia, ha dato ancora una volta prova di essere uno dei migliori attori italiani. Sentiamo Tonino Danese. Sembrava di vedere il grande Nino Manfredi, le sue espressioni, quella mimica unica con cui accompagnava parole, battute. Elio Germano si è calato completamente nei panni di uno dei giganti del cinema italiano e lo ha fatto in maniera perfetta. Un'altra interpretazione straordinaria, totale, dell'attore romano Figlio del Molise nelle cui vene scorre sangue di Duronia. La fiction trasmessa ieri sera su Raiuno, in arte Nino, per la regia di Luca Manfredi, ha reso ancora più evidente lo smisurato talento di Germano, già autore di prove magistrali, come nella parte di Leopardi. Prove, oltre che recitative, anche fisiche. Una capacità innata di calarsi nelle parti, completa, entra nell'anima del personaggio. E così ha fatto con Nino Manfredi. E non era facile cogliere quei gesti, l'intercalare l'accento dell'immenso Manfredi. Mai banale, Elio Germano, ma è irrispettoso, perché non è cosa semplice approcciarsi a un mostro sacro del teatro, del cinema e della televisione, quel Nino Manfredi, tra gli alfieri della commedia italiana. Lui che sul finire degli anni Ottanta fu anche testimonia al pubblicitario per la Molisana. Nel film TV in arte, Nino, in evidenza, il giovane Manfredi, i suoi esordi, i rifiuti e la gavetta, l'amore e l'amicizia, il rapporto con i genitori, la sua potente verve artistica, l'inventiva, il suo essere istrionico, improvvisatore, la versatilità. Il Manfredi pubblico e intimo, reso con delicatezza, professionalità e bravura da Elio Germano, un attore che oggi ancora di più rappresenta motivo di orgoglio per il Molise e i molisani. Elio Germano è il volto bello e vero del Molise, pulito, quello che vorremmo vedere in tutti i settori, patrimonio artistico di tutta l'Italia. vincitore della Palma d'Oro a Cannes e dunque attore di respiro internazionale e lui, Elio Germano, non ha mai rinnegato le sue origini molisane di Duronia, paese che ama e in cui torna spesso e lo ribadisce in ogni occasione, anche poche ore prima della messa in onda della fiction in Artenino, un amore, il suo semplice, diretto e sincero. Ed è molto legato alla sua famiglia ed è testimonial del Molise nel mondo. Sono ambasciatore nel Molise del mondo. Tutto questo, tutti questi ingredienti. è venuto alla luce al Santimotio di Termoli, assistito dall'equip del dottor Dino Molinari, responsabile del reparto di ostetricia e ginecologia, il piccolo Davide, terzo genito di Chiara Pallante, Gianfrancesco Iagaruso. A loro gli auguri più affettuosi della redazione di Telemolise. auguri al nostro direttore, Manuela Petescia e a Quintino Pallante, mamma e papà di Chiara, a Giuseppe e Lella Iacaruso, papà e mamma di Gianfrancesco, e a Ginevra e Aurora, sorelline di Davide. Da questa mattina a Disernia sono iniziati i festeggiamenti in onore dei Santi Cosma e Damiano, una delle ricorrenze religiose più sentite in città. Vediamo. Il legame tra i Santi Cosma e Damiano e la città è fortissimo, antico, come testimonia la lunga e per certi versi leggendaria storia dell'eremo. Da sempre tantissima gente arriva anche dai paesi vicini per rendere omaggio ai medici che svolgevano la loro missione senza chiedere denaro in cambio. Ancora oggi a loro vengono attribuite guarigioni miracolose. Forse anche per questo motivo l'attaccamento dei fedeli alle figure dei due martiri è fortissimo, talmente forte che fa passare in secondo piano le altre pur importanti ricorrenze che caratterizzano Isernia. È un fatto piuttosto unico anche perché noi abbiamo Santi e circostanze anche più rilevanti da un punto di vista liturgico. Eppure questa realtà, quella che oggi celebriamo, è qualcosa che lega spiritualità, tradizione e anche superstizione da un punto di vista diciamo laico. Però un'opportunità, un'opportunità dove riflettiamo sull'importanza anche di come vivere la nostra esistenza di credenti e accettare anche quei trascorsi anche di forse martirio quotidiano che i Santi Medici ci ricordano, dove la vera medicina che ci vogliono indicare è quella della speranza, della fiducia da riporre in Dio. Il primo appuntamento di questa giornata di festa come sempre alla cattedrale, dopo la messa, la processione alla volta dell'eremo che ha per protagonisti fedeli dell'Olivella, frazione di Sant'Elia Fiume Rapido, il centro della provincia di Frosinone che proprio in nome dei Santi Cosme Damiano si è gemellato con il comune di Sernia. La tradizione di riservare ai fedeli laziali il compito di accompagnare le statue e le reliquie dei Santi risale al XVII secolo. Gli Sernini concessero questo diritto ai cittadini di Olivella in segno di ringraziamento per l'aiuto ricevuto nel trasportare le reliquie dei Santi Medici da Roma al capoluogo molisano. È radicata nel tempo proprio perché la tradizione ci insegna che addirittura i pellegrini giungevano qui in Isernia a piedi, questo a dimostrazione della grande devozione per i Santi Cosme e Damiano. Ovviamente il saluto è da parte di tutta l'amministrazione del comune di Sant'Elia Fiume Rapido tenuto conto che al di là del legame con la comunità di Sant'Elia c'è da sottolineare proprio il legame con la frazione di Olivella che ancora oggi sono numerosi i pellegrini che giungono qui. Ed è iniziato il nuovo anno scolastico e a Isernia è nato il centro Genius per l'assistenza allo studio. Vediamo di cosa si tratta. Daniela Boffa e Monica Esposito puntano su loro stesse, sulla loro preparazione, puntano sui tanti anni di studio trascorso adesso al servizio degli altri ma soprattutto puntano su Genius. Cos'è Genius? Genius è un centro di assistenza allo studio che ci permette di affiancare gli studenti sia dalla scuola primaria fino ad arrivare agli esami universitari quindi un po' tutte le età. Un bel pacchetto di servizi per voi a disposizione non solo di studenti ma molto di più anche alle imprese. Dici brevemente cosa offrite? Offriamo servizi di traduzione per quanto riguarda anche gli studenti soprattutto lezioni sia individuali che dopo scuola quindi un'aula più grande che permette di far studiare contemporaneamente più ragazzi corsi di lingua preparazione con corsi statali, militari esami universitari e quant'altro. Dove possono trovarvi? Via Antonio Vivaldi numero 35 sopra l'Eurospin. Ed è tutto per quest'ultima edizione del nostro telegiornale grazie per averci seguito a tutti voi una cordiale buonanotte. Grazie a tutti per aver guardato il nostro canale Grazie a tutti per aver guardato il nostro canale